Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli alosisti, io sono Falcus E non sono Alex Oggi siamo qui per annunciarvi che andremo di nuovo in live ragazzi Di nuovo in live, il terzo live in 4-5 giorni No, 6-6, boh vabbè pace Yeah Quindi venite a ciòvarci Ciao raga Ciao